Buongiorno, ben ritrovati, Focus Tg, una giornata densa di avvenimenti, quella di oggi, il giorno della memoria, ma anche la protesta dei trattori che arriva in Laguna e l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia che è appena terminata. Sentiamo subito il presidente Zaia che sta parlando ai nostri microfoni. Tra l'altro c'è Treviso che si contraddistingue su questo per le note vicende. In generale poi Casalesi, Andrangheta e criminalità organizzata presente, in particolar modo nel provincio, come ci è stato detto questa mattina dal procuratore generale Prato, in provincia di Verona, Vicenza e Padova e poi nella parte orientale, quindi nel veneziano, la parte orientale per quanto riguarda i Casalesi. Senta, se arrivasse l'autonomia, cambierebbe qualche cosa per la macchina della giustizia in Vene? Ma è stato accennato dalla vocatura proprio questa mattina che è la speranza che ad esempio su tutto quello che la giustizia di pace possa avere diciamo uno spazio. Noi un po' di autonomia l'applichiamo già, ringrazio il presidente della corte d'appello Citterio, il procuratore generale Prato per aver ricordato tutti gli accordi che abbiamo firmato, addirittura noi siamo stati la prima regione in Italia, siamo ancora gli unici, adesso è stato annunciato che lo farà il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna ad avere un accordo per il quale si possono far scorrere graduatori della regione del Vene per le assunzioni direttamente nell'ambito della magistratura. Grazie, grazie presidente. Marta noi ti restituiamo la linea anche perché da quello che abbiamo capito sta per riprendere. Allora torniamo a Focus Tg per parlare ancora di l'anno giudiziario, da poco terminato hanno parlato molti rappresentanti della magistratura, anche il sottosegretario Stellari sono stati messi in campo anche tutte le problematiche gravi per quanto riguarda la magistratura, ovviamente la lentezza dei processi, strettamente legata anche alla cronica carenza di organico, soprattutto di organico amministrativo. E poi c'è il dato, il dato raccolto già ieri in un anticipo diciamo di questa giornata sui reati ed è un dato che mostra un Veneto violento, quello dell'ultimo anno con un'impennata purtroppo di omicidi, soprattutto femminicidi. Impennate di omicidi in Veneto che registra un più 23% rispetto all'anno scorso con il triste record nella marca trevigiana con ben 8 omicidi in appena un anno in aumento in Veneto, soprattutto i femminicidi con 14 assassini dati riferiti da giugno 2022 a giugno 2023 e quindi prima degli ultimi casi con Giulia Cecchettin nel veneziano e Vanessa Ballà nel trevigiano, a dirlo il procuratore generale di Venezia Federico Prato. Tutte le procure del distretto sono allertate, sono aumentati i casi, però sono stati creati dei gruppi specializzati sia di magistrati sia di polizia giudiziaria che ne stanno occupando. Omicidi legati anche alla costante presenza dei reati in aumento del 7% con il crimine organizzato e ascrivibile all'articolo 416 bis di stampo mafioso Padova, Vicenza e Verona sotto assedio della criminalità calabrese. Le cosche che vengono interessate da queste indagini sono quella grande Aracri, Gerace, Albanese. Mentre il Veneto orientale è dominato dalle cosche campane della Camorra dei Casalesi. La presenza del crimine organizzato in Veneto è stata accertata sia dall'indagine sia dai processi di primo grado che in alcuni casi sono stati già confermati in appello. Maglia nera a Mestre seguita da Padova e Verona con le nuove droghe di sintesi e lo spaccio gestito dalle comunità criminali in mano ad albanesi e nigeriani. In cui vi sono delle organizzazioni nigeriane e albanesi che spacciano giorno e notte e quindi hanno reso invivibili certe zone della città. Anche qui c'è da parte dei questori c'è la massima attenzione per prevenire il fenomeno, per arginarlo e ovviamente da parte nostra c'è l'attività repressiva che non manca mai perché questo è un settore, quello del traffico di stupefacenti che è attenzionato da parte di tutte quante le procure venete. Con l'appello, sempre quello, nei tribunali resta la cronica carenza di organici amministrativi. Se potessimo avere quel 40% di personale amministrativo che ci manca potremmo arrivare però a numeri che ci consentirebbero finalmente di definire i processi nei 24 mesi. Allora torneremo fra poco a parlare di giustizia, oggi il giorno della memoria ed è un giorno ancora più particolare a Vicenza dove si sono registrati, lo ricordiamo, gli scontri nella manifestazione anti-Israele alla fiera di Vicenza Oro. Allora in collegamento Luisa Bertini con il sindaco Giacomo Possamai per una giornata particolare per Vicenza. Buongiorno Luisa. Buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo in compagnia con il sindaco Giacomo Possamai perché oggi è stata celebrata la giornata da memoria, una giornata particolare, avete fatto tappa anche in tutte le varie pietre d'inciampro a ricordo dei deportati. Sì, il senso era proprio questo, al di là dei discorsi importantissimi che abbiamo fatto davanti al teatro olimpico dove c'è una targa che ricorda i deportati vicentini, abbiamo percorso le pietre d'inciampo che ci sono nel centro storico di Vicenza che ricordano i luoghi da cui furono portati via i deportati vicentini. Ecco, il significato delle pietre d'inciampo è importantissimo perché servono a ricordarci nei luoghi di tutti i giorni dove camminiamo quello che è successo, altrimenti rischiamo di confinare il ricordo a giornate importantissime come quella di oggi ma non ricordarcelo negli altri giorni. Quindi abbiamo voluto percorrere con i cittadini, ce ne erano tanti, con le autorità, insomma il senso è stato proprio quello di far memoria e far tesoro della memoria tutti i giorni. E poi per Vicenza assume una connotazione particolare anche alla luce degli scontri che si sono verificati proprio per la manifestazione anti-Israele della scorsa settimana. È chiaro che per noi aveva un significato particolare oggi in un tempo in cui comunque ci sono rigurgiti antisemiti molto forti, non soltanto in Italia ma in tutta Europa e in tutto l'Occidente e poi a Vicenza dopo quello che è successo la settimana scorsa, anche se è importante sempre fare la distinzione tra la religione ebraica e Israele, nel senso che lì si parla dello Stato di Israele, in questo caso si parla di quello che è avvenuto al genocidio di un popolo e ad una religione e ad una fede. Ma da questo punto di vista a Vicenza, alla luce delle violenze che sono successe la settimana scorsa era ancora più forte e più importante ribadire questo messaggio. Una memoria che parte anche attraverso i ragazzi, tanti ragazzi coinvolti proprio per educarli. Sì, c'erano tanti ragazzi questa mattina delle scuole perché l'altro grande tema è che stanno ovviamente scomparendo i sopravvissuti, scomparendo i testimoni e quindi in questo tempo in cui ormai per l'età rischiamo di non avere più persone che con i loro occhi hanno visto la tragedia dell'Olocausto è ancora più importante tramandare questa memoria a fare in modo che resti viva anche nei più giovani, anche in chi come noi non ha potuto vedere con i propri occhi quello che è successo. Ecco, io ringrazio il sindaco, Giacomo Possamai restituisco a voi la linea. Luisa Bertini. Nel frattempo vi dico che siamo anche collegati con l'altra troupe di Venezia, quella che non si trova all'inaugurazione dell'anno giudiziario perché stiamo aspettando l'arrivo del gruppo dei manifestanti. Come sapete in questi giorni ci sono in più parti, in più zone d'Italia, le proteste dei trattori, gruppi di ricoltori che protestano contro la burocrazia, contro l'Europa, contro le tasse e hanno manifestato per esempio a Verona qualche giorno fa e in questi momenti stanno per arrivare a Mestre, hanno bloccato un po' il traffico a Mestre, si ritroveranno nella zona di Forte Marghera e da qui poi partiranno non con i trattori ma si dirigeranno verso il capoluogo regionale dove manifesteranno a piedi, era inevitabile. Stiamo vedendo le immagini di Simone Merlo, proprio la zona in cui dovrebbero arrivare fra poco i trattori, peraltro la nebbia non aiuta e quindi il traffico sicuramente ne risente, dicevamo impensabile arrivare con i trattori a Venezia, ovviamente tanto più nel giorno in cui inizia di fatto il carnevale, quindi si sposteranno a quanto pare con una navetta nel centro storico lagunare, nella zona del piazzale Santa Lucia e poi faranno una specie di camminata di protesta ma arriveranno comunque in zona Forte Marghera con i trattori e noi li seguiremo. Allora restiamo nell'ambito del giorno della memoria, sempre a Vicenza, perché la ferita di quegli scontri c'è ancora evidente e in questi giorni tanti gli eventi preparatori alla giornata di oggi, ieri ha parlato anche il rabbino capo di Vicenza e Verona. Questi venti di odio e antisemitismo sono ancora molto forti nel mondo e sorgono in questi giorni. Venti, venti di odio e di antisemitismo, a parlare il rabbino capo della comunità ebraica di Verona e di Vicenza. Un messaggio che viene lanciato nella città dove sabato scorso si è scatenato l'inferno durante il corteo dei centri sociali contro Israele alla Fiera dell'Oro, una manifestazione che contestava la guerra a Gaza. Sì, quello che è successo nella Fiera di Vicenza è veramente brutto. è triste vedere che ci sono ancora questi movimenti, queste forze che vogliono creare odio. Hanno addirittura manifestato quando il padiglione israeliano alla Fiera non c'era e loro hanno manifestato contro una cosa che non c'era. C'erano due o tre persone singole, negozianti, che vendevano, ma non c'era un padiglione contro cui hanno manifestato, quindi è una cosa assurda. Voci, voci dalla manifestazione che si è tenuta nel cuore di Vicenza dal titolo Uniti contro l'antisemitismo in vista del giorno della memoria che viene celebrato il 27 gennaio. Nell'occasione sono stati diffusi i dati sulle aggressioni agli ebrei in Italia da quando è iniziata la guerra a Gaza. Dal 7 ottobre, gli atti del 7 ottobre in Israele, gli atti di antisemitismo sono aumentati del 350% in Italia e hanno colpito soprattutto il nord del paese, il nord-est e il nord-ovest del paese. La sensazione che ci sia un ritorno grave di antisemitismo è forte ed è urgente. L'antisemitismo è un problema grave, noi siamo qui per dire no all'antisemitismo, siamo qui per dire che Israele ha diritto di esistere contro chi la vuole cancellare, siamo qui per ribadire anche che la Palestina ha diritto di essere liberata dal terrore, i palestinesi hanno diritto a un loro Stato libero e democratico, siamo qui soprattutto per la pace. Allora, tante le testimonianze in questi giorni. Abbiamo raccolto nella marca trevigiana la testimonianza del figlio di un uomo di Carbonera che salvò insieme alla moglie una giovane mamma e la figlia dai campi di esterminio nascondendoli in casa. Vediamo. Lui sapeva che erano ebrei ma l'ha tenuto nascosto a tutta la mia famiglia, non l'ha detto a nessuno, ha solo detto che erano delle parenti che arrivavano dalla lontana Alsazia. Nelle parole di Giovanni di fronte agli studenti della scuola media Martini di San Biagio di Callalta, il ricordo del gesto eroico di suo padre, Gioacchino Campagnolo, quando in un atto di straordinaria umanità ha rischiato la propria vita e quella della propria famiglia per salvare una donna ebrea e la sua giovane figlia dall'orrore nazista. La loro storia è stata raccontata anche in un libro. Due immagini della casa della famiglia Campagnolo a Carbonera e dell'intera famiglia. Il signor Giovanni è questo bambino piccolo, questa immagine del signor Gioacchino Campagnolo e la pagina successiva della signora Esther con la figlia Diane. Nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme i nomi di Gioacchino Campagnolo e della moglie Erminia Caonna risplendono come stelle di speranza, incisi nel muro d'onore, testimoni al mondo intero dell'immortalità delle azioni umane intrise di amore e coraggio. Un ricordo meraviglioso sui miei genitori di quello che loro hanno fatto e sono anche orgoglioso. Lo sarebbe un po' meno mio padre perché a queste cose non ci teneva. Lui voleva fare le cose del bene ma lo voleva farle sempre un po' di nascosto. Dopo l'incontro Giovanni con il sindaco Valentina Pillona, le associazioni combattentistiche, assieme agli studenti e agli insegnanti dell'istituto comprensivo, si sono recati presso il monumento degli internati per commemorare con una cerimonia tutte le vittime dell'olocausto. Nell'occasione è stata scoperta una targa con i nomi degli ex internati di San Biagio di Callalta, un sogno che si avvera per molte famiglie. Mio padre è stato preso a Mantua, era militare, è stato portato in Germania nel campo concentramento di Allac che era un campo satellite di Dachau. Ricordare significa mantenere viva quella che è la memoria, non è solo una celebrazione fino a se stessa ma è proprio portare delle testimonianze vive concrete affinché le discriminazioni di un tempo non si ripresentino più. In un mondo spesso dilaniato da divisioni e conflitti, la storia di Giovanni e dei suoi genitori ci ricorda che anche nell'oscurità più profonda brilla sempre una luce di speranza incrollabile ed eterna. Nel cuore sento che del bene si può fare e trasmettere a questi ragazzi che oggi ne hanno veramente bisogno. La testimonianza del signor Giovanni è stata molto commovente e istruttiva, spero ci siano altre occasioni per parlare di questi argomenti. Ci torneremo fra poco ma poi c'è anche la cronaca, la cronaca anche legata in qualche modo alla giustizia visto che abbiamo parlato dell'anno giudiziario, dei problemi della giustizia anche in Veneto. Ebbene a Vicenza è stato arrestato un ladro, aveva tentato un colpo, compiuto un furto, pensate era stato scarcerato appena dieci giorni fa da Treviso. Era in libertà solo da qualche giorno ma il ladro seriale che aveva compiuto decine di furti nel nord Italia è stato bloccato ed arrestato nuovamente ieri sera dagli agenti di polizia della squadra volanti. Si tratta di un cittadino romeno di 46 anni che da poco arrivato a Vicenza verso le 4 cercava di scardinare le finestre di un bar in Viale Trento. Alla vista dei lampeggianti, delle pattuglie e delle forze dell'ordine si è dato immediatamente alla fuga lasciando sul posto gli attrezzi da scasso, cacciaviti e un piede di porco. Individuato dagli agenti mentre tentava di nascondersi un cantiere di via Ortigara, il malvivente è stato infine bloccato e portato in questura dove è stato accertato il suo corposo curriculum di precedenti, soprattutto furti in abitazione ed esercizi commerciali nelle città di Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Venezia, Mantova, Belluno, Ferrara ed infine Treviso dal cui carcere proveniva dopo essere stato arrestato per furto in flagranza. A proposito di scarcerazioni, il delitto di Margherita Ceskin, uno dei tanti femminicidi e omicidi della marca dello scorso anno, la 72enne ricorderete è morta per soffocamento nella sua abitazione a Conegliano, l'ex marito e i presunti complici, insomma ritenuti responsabili dell'omicidio potrebbero uscire dal carcere, la Corte di Cassazione ha infatti annullato l'ordinanza del riesame che confermava la misura cautelare. L'accoglimento è stato per tutti e tre gli indagati, quindi è certamente un motivo comune, avevo presentato ricorso per alcuni motivi comuni, soprattutto di natura procedurale e credo che uno di questi sia stato accolto e quindi per queste ragioni ha annullato la Cassazione e l'ordinanza per tutti e tre gli indagati. Enzo Lorenzon, Sergio Lorenzo, Juan Maria Guzman accusati in concorso del delitto di Margherita Ceskin, la 72enne trovata morta nella sua casa il 24 giugno scorso, potrebbero uscire dal carcere. L'ordinanza del Tribunale del riesame che di fatto confermava l'atto con cui il GIP del Tribunale di Treviso aveva stabilito la misura cautelare è stata annullata. La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Fabio Crea e Mauro Serpico. A confermarlo lo stesso Crea, difensore del 38enne Domenicano Guzman e di Enzo Lorenzo, il 79enne ex marito della vittima. La novità di questa mattina è che la Cassazione in accoglimento del ricorso che avevamo presentato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame è disposto all'annullamento integrale dell'ordinanza con rinvio per un nuovo esame al Tribunale del riesame di Venezia. Tribunale che ora avrà un mese di tempo da quando i giudici della Cassazione depositeranno le motivazioni per esprimersi fissando una nuova udienza. Tempo utile per l'avvocato Crea per tornare ad avanzare una nuova richiesta per i domiciliari per l'ex marito della Ceschina, 79 anni, per motivi di salute. È molto probabile che per la posizione del signor Lorenzo per le condizioni di salute io avanzi una istanza in attesa alla decisione del riesame. Poi c'è il delitto di Paderno del Grappa, è stata riconsegnata ieri ai familiari dopo l'autopsia la salma di Bledardedia, il 39enne di Asolo massacrato con venti coltelati in quella che appare sempre di più come una spedizione punitiva durante un incontro, probabilmente a sfondo sessuale nel bosco di Paderno. La famiglia è in partenza per l'Albania dove il giardiniere padre di due bimbi verrà sepolto. Continuano intanto serrate le indagini sull'omicidio, lunedì nel luogo del ritrovamento del corpo arriveranno gli uomini del RIS di Parma che analizzeranno anche l'auto della vittima. Ancora la cronaca giudiziaria è di definitiva, infatti la condanna a 14 anni e 10 mesi per l'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorosce Fernandez, accusato, lo ricorderete, dell'attentato avvenuto ad agosto 2018 ai danni della sede della Lega Nord di Villorba di Treviso, il K3. La Cassazione ha respinto i ricorsi della Procura Generale di Venezia e del suo difensore. L'uomo era stato condannato nel marzo dell'anno scorso anche per il reato di attentato per finalità terroristiche o di eversione. In primo grado era stato condannato a 28 anni di carcere. La strage del bus di Mestre con la perizia del medico legale e la conferma di quanti molti ritenevano e cioè Alberto Rizzotto non ha avuto un malore prima del tragico incidente della strage del bus che ha portato alla morte 21 persone. Il quarantenne di Vazzola, Trevigiano di Vazzola, non aveva a quanto pare problemi di cuore. Alberto Rizzotto è morto a causa del violento trauma cranico provocato dall'impatto del bus quando si è schiantato a terra precipitando dal cavalcavia di Mestre. Ogni dubbio è fugato. Secondo il medico legale, consulente della Procura della Repubblica di Venezia, dunque, l'autista quarantenne Trevigiano morto insieme ad altre 20 persone la sera dello scorso 3 ottobre non è stato colto da alcun malore. È questa la conclusione della relazione depositata che esclude dunque anche eventuali complicazioni cardiache. È evidente che un elemento fondante è che qualcosa in questo autobus è successo nei 40 metri. Poi c'è il tema del Garderei, per carità lasciamo i periti valutare ciò che devono valutare, ma la cosa sostanziale è che per oltre 40 metri l'autobus urtava. Rizzotto ha tentato, si vede proprio nel tentativo, però il bus non rispondeva più. Cos'è successo dunque davvero quella sera? In attesa dell'esito delle perizie mancanti, quelle sul cavalcavia effettuate dall'ingegner Migliorino e quella sul bus, il cerchio si restringe notevolmente e il timore che la causa stia proprio nel mezzo si fa sempre più spazio, anche alla luce dei successivi incidenti che hanno visto coinvolti quattro mezzi proprio della linea. Io dico che le immagini che Media Nord-Est ha evidenziato più volte sono eloquenti. Non ho contezza, lo dico, in maniera so che anche i vigili del fuoco abbiano fatto dei rilievi precisi sul tema di alcune questioni di carattere meccanico o tecnico. Certo, la Procura sta facendo un grande lavoro, ha fidato degli esperti importanti e ci auguriamo che presto arrivi la verità. Proprio ai nostri microfoni, infatti, un ex dipendente in forma anonima aveva puntato il dito sul malfunzionamento dello sterzo di questi mezzi, su cui molti pendolari oggi hanno paura di salire. Se la gente, i cittadini hanno paura, noi dobbiamo fare in modo che la gente si senta sicura. Il tema di questo gravissimo incidente, intanto c'è un punto fermo. Alberto era una bravissima autista, una brava persona, purtroppo ha fatto di tutto per salvare la situazione. Credo che la testimonianza dei qui 50 metri, che non riusciva più, perché, io chiudo dicendo come avete voi ben evitato, perché non riusciva a riportare al centro del cavalcavia il bus e sbandava sempre in continuazione. Credo che con ansia lasciamo i tecnici farlo, speriamo che presto arrivino le perizie su queste parti meccaniche che ci dicano finalmente la verità. Prima di collegarci con Chiara Gagliani a Padova, un veloce flash dal sito del Gazzettino. La nebbia che pervade il Veneto in queste ore. Coltre di nebbia sull'aeroporto di Venezia, caos voli, partenze in ritardo e passeggeri bloccati in attesa. Lunghe attese anche a Treviso. È una situazione di disagio che si sta registrando in queste ore, non solo al Marco Polo, ma anche all'aeroporto Canova di Treviso. A Padova, dove la criminalità in questi giorni ha fatto parlare per le baby bulle, ma anche per il caso del pestaggio tra i fan del trapper. Ma a proposito di giovanissimi, ci sono anche, lo sappiamo, giovanissimi spacciatori che assediano anche i commercianti di alcune zone della città. Chiara Gagliani è con una di loro. Buongiorno, Chiara. Nicola, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nella quartiere della Guizza, nella cartoleria di Veronica De Carlo, che ringraziamo. Una cartoleria di quartiere dove, ovviamente, come tutte le cartolerie, i clienti più abituali sono proprio i ragazzi delle scuole, i giovanissimi. Davvero è stato un dolore quello che ha trovato, sentite qualche giorno fa, nascosto all'interno del negozio della droga. Esatto. Per noi è stato veramente un colpo molto, molto forte, perché sono soprattutto ragazzini che frequentano quotidianamente la nostra attività. Le abbiamo visti crescere e ci ha fatto veramente molto, molto male vedere che soprattutto si stanno approcciando con qualcosa forse molto più grande di loro. E questa cosa non deve passare sotto gamba. Ecco, bisogna stare molto attenti. Ecco, ci fa vedere Veronica dove avete trovato delle confezioni che credo fossero di hashish, giusto? Certo, esatto. Andiamo a vedere dove erano. Le abbiamo trovate in questa zona, nel reparto appunto borracce, bottiglie, dove erano proprio nascoste all'interno appunto dello scaffale. E' stato ritrovato ovviamente verso tardasera, nel momento appunto delle pulizie serali, dell'attività, è un momento di chiusura. E' stato veramente strano, perché non ci aspettavamo soprattutto di trovare questo in un'attività commerciale. E' stato veramente molto duro. Voi avete visto tutto tramite le telecamere e ovviamente avete fatto denuncia. Certamente, la polizia è al corrente, abbiamo preso i giusti provvedimenti. Stiamo appunto cercando di fare rete ovviamente con la polizia e la scuola in modo da fare molta più formazione su questo avvenimento. E soprattutto i ragazzi, soprattutto molto più piccoli, quindi che si tratta proprio di medie e anche superiori. Ma soprattutto le medie, perché stiamo parlando appunto di ragazzini da una fascia di 13-15 anni, quindi molto molto piccoli. Sono ragazzi che frequentano la scuola media che c'è qui vicino, perché lei li ha riconosciuti proprio. Certo, 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 ripeto, sono qua ogni giorno. Sono maschi, sono femmine, perché abbiamo sentito insomma il caso anche delle babybulle, queste ragazze che addirittura arrivano ad aggredire una loro coetanea. Allora sì, qua stiamo parlando di ambo i sessi. Ovviamente c'è stato proprio un iter, cioè nel senso hanno proprio usato come luogo di scambio. Quindi stiamo parlando di ambo i due sessi. Tra l'altro nel negozio ci raccontava, lei aveva registrato e chiuso un occhio anche piccoli furti. Sì, purtroppo nel quotidiano noi siamo stati molto in silenzio, però perché ovviamente si trattava ovviamente di piccoli dispettini, piccoli furti, però appunto abbiamo invitato appunto i genitori di stare molto attenti, subito controllare negli astucci dei figli. Ci sono sempre tanti piccoli campanelli d'allarme che fanno capire che magari i figli hanno commesso qualche cosa che non va bene. Ecco, perché è proprio questo l'appello che è lanciato anche via social e che rilanciamo dalle telecamere ai genitori. State attenti, ci sono dei piccoli segnali che voi potete cogliere. Quali sono? Sicuramente, allora essendo che il rendo soprattutto dei ragazzini dalla fascia diciamo dai 11 ai 15 anni hanno poca disponibilità assolutamente economica, quindi guardare, stare attenti, soprattutto quando vedete che non riescono, cioè portano a casa quel qualcosa in più che magari voi non avete dato quei soldi lì. Quindi controllargli, controllargli spesso, parlarne, parlarne tanto con i figli, perché solamente parlandone riusciamo appunto a sdoganare, a far capire che cosa può essere giusto e cosa può essere sbagliato. Ecco, davvero un episodio su cui riflettere. Io davvero ringrazio Veronica De Carlo per aver accettato di raccontarlo ai nostri microfoni. Vi lascio ad un'altra vicenda di Cronac che coinvolge giovani, in realtà stiamo parlando di ventenni, ovvero la vicenda di questa faida tra bande rivali di Trapper, che ha coinvolto anche la città di Padova. Ieri vi abbiamo raccontato la chiusura dell'indagine, l'individuazione di sei responsabili di un'aggressione in piazzale stazione. Per il capo, per il Trapper, per Baby Touche, il questore di Padova ha emesso un foglio di via dalla città di Padova. Ringrazio Cristiano Cayende per la collaborazione tecnica, vi lascio al servizio da Padova, restituisco la linea. Foglio di via da Padova per tre anni, per il noto Trapper di Monselice, Baby Touche, lo aveva annunciato il questore Marco Dorisio al termine della conclusione delle indagini sulla violenta aggressione avvenuta in stazione il 14 febbraio 2022, quando i leoni, supporte del Trapper, avevano accerchiato, pestato e persino accotellato alla schiena un 25enne di lecco sodale di un Trapper nemico, il Lombardo Simbalarù. Una faida tra bande rivali che aveva continuato a inseguinare vie e piazze tra Lombardia e Padova e a giugno scorso aveva avuto come teatro anche il parcheggio del Pride Village in via Rismondo, dove lo stesso Trapper era stato identificato e denunciato per aver aggredito con altri sostenitori due giovani all'uscita del village, utilizzando anche dei tirapugni. Alla denuncia si aggiunge la misura restrittiva notificata dalla divisione anticrimine della Questura che per Bebitusce si aggiunge al foglio di via del Comune di Vicenza, notificato a giugno 2022, e a quello del Comune di Venezia, arrivato a novembre 2022. Una guerriglia violenta e insensata con la finalità di aumentare i followers sui social. Ciò che emerge a livello proprio anche non solo investigativo, ma dai casi che si sono verificati anche di recente qui in città a Padova, l'elemento principale è appunto la cassa di risonanza, l'amplificazione sui social, dove si mettono appunto video prevalentemente a carattere violento, legato poi ad una finalità che è quella anche di accrescere i follower. Un'indagine che fa emergere una realtà dove giovani, gli indagati per l'aggressione a Padova, sono tutti ragazzi di seconda generazione, tra i 20 e i 29 anni, marcano il territorio condividendo i video in rete e sui social insieme a brani e canzoni con testi intrisi di violenza. I ragazzi, anzi, sono il nostro, non futuro, sono già il nostro presente, sono pieni di risorse. C'è la riflessione, sicuramente, come ha detto lei già, anche quella sugli adulti. I ragazzi sono l'espressione anche delle proprie famiglie, dei propri contesti dove ciascuno di noi nasce, cresce. A me piace usare la definizione clan, il primo clan dove ciascuno di noi quando viene al mondo impara a rapportarsi con le regole e la famiglia, quindi il rispetto per la sorellina più piccola piuttosto che per il nonno. Quando parliamo di rispetto alle regole parliamo di legalità. L'altro segmento poi è quello, per esempio, del mondo della scuola. È chiaro che ognuno di questi segmenti deve fare il suo, altrimenti si crea un cortocircuito, né un segmento può diventare sussidiario rispetto all'altro. Si discute, si discute dei ragazzi, dei giovani, anche dopo il caso della ragazzina di 13 anni pestata dalle due coetane e i genitori a Padova sono divisi. Secondo i terribili di violenza gratuita, tutto in una strada di quartiere all'Arcella a Padova davanti a una scuola media, mercoledì pomeriggio. Sono passati pochi minuti dalla fine delle lezioni. Un gruppo di ragazze adolescenti discute, è una questione di gelosia, il ragazzo più bello della scuola, l'oggetto del contendere. Dalle parole si passa velocemente ai fatti e quella che è iniziata come una scaramuccia diventa un pestaggio rigorosamente ripreso dalla videocamera dello smartphone. Con un pugno è già a terra e dietro emoticon, si legge nel video diventato virale in pochi minuti, dopo essere stato condiviso dalle stesse protagoniste come storia. Un video girato tra i ragazzi ma anche tra i genitori, tanto che scatta subito la denuncia alla polizia che riceve anche la segnalazione di un adolescente attraverso l'app YouPoll. Immagini brutali, la tredicenne viene prima colpita con uno schiaffo in volto dalla ragazza con cui sta discutendo, interviene poi quella che ha tutta l'aria di essere un secondino e finisce il lavoro. Le tira i capelli, la fa alzare per poi sferrarla, un pugno alla testa la fa cadere, mentre la capetta Balzella attende il momento giusto per colpirla ancora una volta alla testa con un calcio. A fermare il pestaggio è la prima ragazza, forse impaurita per l'arrivo di qualcuno in bicicletta. Sotto shock, la vittima delle bulle è stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso, dove le è stato riscontrato un trauma cranico guaribile in pochi giorni. Sempre con i genitori, la tredicenne si è presentata dai carabinieri di Padova, dove a sporto denuncia. Le tre ragazze, giovanissimi di seconda generazione che frequentano la prima superiore, sono state denunciate alla procura del Tribunale dei minori di Venezia. I carabinieri hanno anche contattato i dirigenti scolastici delle scuole frequentate per organizzare incontri con gli studenti contro il bullismo, in cui rendere chiare le gravi conseguenze penali di questi fatti. Padova ancora una volta si risveglia sotto shock e si interroga su episodi sempre più frequenti che coinvolgono le sue giovanissime cittadine. Pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta, vediamo un secondo le immagini di Simone Merlo in diretta da zona Forte Marghera. Le vediamo un attimo perché fra poco dovrebbero arrivare i trattori, la protesta degli agricoltori. Questa è la zona, c'è la nostra Anna Maria Parisi che fra poco si collega. Questa è la zona. Non so se mi sente Anna Maria. In ogni caso, era solo per vedere due immagini del posto. Nicola, ti sento? Ciao, ciao, ciao. Sì, eccoci, siamo collegati qui in diretta da Mestre, dal piazzale di Forte Marghera a un paio di chilometri in linea d'aria. Anna Maria, facciamo solo un flash. Facciamo solo un flash veloce. Dovrebbero arrivare tra poco. Sì, stanno arrivando sia da direzione Romea che da direzione Venezia, quindi stanno chiudendo i varchi di accesso alla città in questa direzione. Una trentina di trattori, agricoltori in protesta, in arrivo anche qui a Mestre. Allora, fra poco ci ricolleghiamo. Stanno accendendoli perché stanno arrivando dalla rotonda di Porta di Marghera. Benissimo. E stanno bloccando tutte le diede accesso alla città. Benissimo, grazie. Grazie, grazie Anna Maria Parisi. Torniamo a Vicenza. È il caso della ragazzina caduta dalla loggione della Basilica Palladiana con un dramma che ancora è sotto indagine da parte delle forze dell'ordine, una distrazione o qualcos'altro. Nel frattempo la quindicena della ragazzina resta ancora grave in ospedale e fortunatamente sta migliorando. È stata miracolata la ragazzina di 15 anni che dopo una caduta da una delle balaustre del colonnato della Basilica Palladiana, pur gravemente infortunata, non sarebbe però in pericolo di vita. L'incidente è accaduto poco prima delle 13. L'adolescente, residente a Tiene, seduta sulla balconata, forse per fare un selfie, è precipitata nel vuoto in corrispondenza della scalinata di Piazza delle Erbe. Il suo corpo sarebbe ulteriormente rimbalzato per finire sul selciato più basso. Avrebbe riportato una serie di fratture, quella del bacino, ad una caviglia e di alcune vertebre. La giovane non sarebbe stata in compagnia di una scolaresca né di altre persone. È stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM mentre sulla dinamica indaga la Polizia di Stato. La ragazza, vista l'entità del trauma, resta in stretta osservazione. Al momento è cosciente e vigile. Ci stiamo tenendo costantemente in contatto con l'ULS, con il direttore generale per seguire lo stato di salute della ragazza alla quale va il nostro augurio di pronta guarigione che possa uscire il prima possibile dall'ospedale di Vicenza. Sono in corso tutti gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria per capire com'è potuto accadere. Siamo anche noi in attesa di conoscere l'esito delle indagini. Ancora la cronaca non ce l'ha fatta. Siamo di nuovo nel Padovano. Il 48enne di Villa Franca Padovana ha ferito gravemente nell'incidente avvenuto giovedì mattina in via Campodoro. Stava andando al lavoro Diego Volpato, 48 anni, era appena partito da casa alle 7 di giovedì quando in via Campodoro a Villa Franca Padovana la sua auto, una Hyundai, si è scontrata con un veicolo che stava uscendo in retromarcia da un parcheggio finendo la sua corsa contro una Volvo guidata da un 35enne di Mestrino che stava sopraggiungendo. Un impatto violentissimo con la Volvo finita nel fossato e il 48enne incastrato tra le lamiere destratto dei vigili del fuoco. Le condizioni di Diego Volpato erano apparse da subito disperate. L'uomo si è spento nella serata di ieri in ospedale dove i medici hanno lottato per salvargli la vita. Ferito in modo lieve anche il conducente del terzo veicolo coinvolto sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia stradale di Piove di Sacco. A proposito di incidenti in questi giorni in queste settimane il tema è quello degli autovelox e del famigerato Fleximan. Noi siamo stati a Treviso ieri a parlare con il comandante della polizia locale di Treviso per parlare degli autovelox anche di Fleximan. Lo stesso comandante suggerisce la necessità di un confronto tra istituzioni e territorio nell'installazione e nella gestione di questo strumento. Questi atti che sono da condannare senza se e senza ma però manifestano sicuramente un malessere un malessere della cittadinanza per cui è giusto prendere e riconsiderare questa norma e verificare soprattutto le finalità dei proventi di questi verbali. Per cui, ripeto sono fenomeni che vanno assolutamente condannati però il sistema va rivisto sicuramente. La velocità è la terza causa di incidenti stradali in Italia un dato che il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo conosce bene numeri alla mano le sanzioni pagate per infrazioni legate alla velocità ammontano 3 milioni e mezzo di euro a Treviso sui 6 milioni complessivi che entrano nelle casse comunali provento di multe. Eppure è proprio lui sull'onda della dialettica nata attorno a Fleximan che ben conosce le strade e il comportamento degli automobilisti a suggerire la necessità di un confronto tra istituzioni. Credo che sia arrivato il momento di mettersi intorno a un tavolo politici, tecnici e anche comitato consumatori insomma per vedere se si può cambiare e perfezionare questa norma ma i controlli devono essere assolutamente fatti. Per installare un velox fisso la richiesta deve essere fatta dalla prefettura corredata da un'istruttoria contenente il flusso veicolare della strada l'alto tasso di incidentalità la mancanza di spazio opportuno per fermare i veicoli in sicurezza e contestare le violazioni. L'articolo 208 del codice della strada però indica che la somma incassata deve essere spesa nell'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale destinata alla manutenzione delle strade e alla loro messa in sicurezza ma i controlli di fatto sono rari. In tangenziale a Treviso i velox hanno contato 45.000 violazioni nel 2023. Ma se calcoliamo che in tangenziale transitano 1.300.000 auto all'anno questo significa che il 97% dei veicoli rispetta il limite di velocità di 90 km all'ora. Sappiamo che a dicembre è stato intercettato un veicolo dall'autovelox che correva ben a 200 km orari. Se non ci fosse stato questo sistema il veicolo avrebbe fatta franca. Nel 2023 Treviso ha registrato meno 20% di violazioni rispetto al 2022. L'obiettivo di far calare la velocità è stato raggiunto. La pagina politica fra poco ci colleghiamo anche contezze sul Brenta per una vicenda di un capitello che è stato violato da dei vandali c'è molta rabbia tra i residenti. La politica con il caso Bigon le ultime parole della consigliera Demma Anna Maria Bigon che come sapete è stata destituita dall'incarico della vice segreteria del Partito Democratico Provinciale di Verona per senso di responsabilità e per non acuire le polemiche interne ha detto Bigon in queste ore prendo atto della revoca da vice segretaria della PD a Verona e continuerò a lavorare nel Partito Democratico il luogo dove deve essere garantito il pluralismo delle diverse sensibilità. Ci sono anche le immagini di Anna Maria Bigon un arricchimento insostituibile della vita del partito quella del pluralismo l'ha detto anche proprio a Focus TG qualche giorno fa in diretta con il direttore Luigi Bacialli senza il pluralismo ha detto in questi giorni Bigon il PD di fatto muore non c'è vita nel PD in questo caso comunque dice accetto questa revoca prendo atto anzi della revoca ma continuerò a lavorare nel Partito Democratico intanto il segretario provinciale del PD Franco Bonfante che l'ha di fatto destituita resta fermo sulla sua posizione lo ha raggiunto la nostra Marta Barangoni ieri al telefono è una scelta mia di cui mi assumo tutta responsabilità sono passati nove giorni dal voto sul fine vita in consiglio regionale ma la bufera nel PD per il voto contrario di Anna Maria Bigon non è finita ieri a Verona è arrivata la revoca della carica di vice segretario provinciale del partito la decisione del segretario veronese Franco Bonfante che ha deciso di interrompere con un atto formale il rapporto di fiducia con Bigon con tutte le debite differenze e proporzioni è come quando il sindaco revoca la delega al vice sindaco un assessore poiché c'è un rapporto fiduciario perché io ho nominato Anna Maria vice segretario è venuto a mancare questo rapporto di fiducia per i motivi che ben sappiamo sui fini vita quindi una differenza profonda su un tema rilevantissimo e molto sentito dai militanti iscritti ed elettore del partito democratico ho ritenuto che fosse giusto da non segnale un caso quello veneto che sta agitando il partito anche a livello nazionale avendo fatto emergere le diverse sensibilità su un tema etico così delicato come quello del fine vita a sostenere Anna Maria Bigon nella sua decisione di votare contro anziché uscire dall'aula il senatore Graziano Del Rio che a sua volta ha minacciato di autosospendersi in caso di sanzioni della consigliera veronese acque agitate con la segretaria Schlein che ha parlato di ferita aperta e se a livello regionale alla fine si era deciso di non prendere provvedimenti ci ha pensato ora il provinciale a buttare nuova benzina sul fuoco il prossimo capitolo in riva all'Adige il 5 febbraio alla sera ci sarà la direzione provinciale del partito che deciderà su un documento che io presenterò sui fine vita adesso a Tezze sul Brenta come vi anticipavo Vanessa Banzato un atto che indigna la cittadinanza Vanessa buongiorno 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 Nicola tutte le persone che ci stanno seguendo in effetti ci troviamo a Campagnari di Tezze sul Brenta e guardate un po' qua questo è quanto si sono trovati davanti i residenti e le persone che passavano per magari fermarsi a fare una preghiera alla Madonna la statuina di Maria decapitata letteralmente c'è molta rabbia c'è lo sdegno e tra l'altro non è la prima volta che qui a Tezze sul Brenta un capitello che sia una figura un effigie della Madonnina o che sia l'effigie di un santo vengono presi di mira ne sa qualcosa Francesco Cerantola che tra l'altro non è nuovo anche a sistemare questi capitelli c'è molta rabbia signor Cerantola veramente c'è molta rabbia perché è già un anno un anno fa l'ultimo dell'anno hanno decapitato con un petardo San Giuseppe nel ciclabile che porta a bene vedere e questa oggi trovarsi qua con un'altra con un'altra immagine sacra così così rovinata è proprio una cosa vergognosa non può durare così tra l'altro ieri mattina una residente si era accorta che la statuina era stata rotta però cosa c'era ancora? Allora io ho visto ieri sera una foto e una signora mi ha chiesto cosa è successo perché sa che io seguo un po' i capitelli e mi ha mostrato una fotografia che c'era la Madonna però la testina della Madonna era del fianco al busto appoggiata sul davanzale quindi vediamo c'era il busto la testa era appoggiata c'era il busto proprio qua sopra appoggiato qua dietro qua dietro qua per terra c'era la testina della Madonna in questa foto questo alle ore 12 e 30 questa signora mi ha mandato le foto io le ho viste soltanto le 5 ieri sera sono venuto qua e la testina non c'era più la Madonna era stata spostata un po' la signora ha detto che è tornata qua verso le 4 3 e mezza e la testa della Madonna non c'era più mentre a mezzogiorno e mezzo c'era la testina della Madonna quindi in pieno giorno in pieno giorno hanno fatto sparire la testina della Madonna la testina della Madonna sì perché era là a mezzogiorno e mezzo alle 4 3 e mezza non c'era più ma cosa sta succedendo perché non è la ripetiamo l'ha detto anche lei poco fa non è la prima volta che succedono queste cose purtroppo i giovani d'oggi non hanno più rispetto per niente non hanno più rispetto per i professori scuola non hanno più rispetto per le istituzioni la roba pubblica si vedono atti vandalici nelle scuole cartigliane di Romano di Zellino alla stazione per andare a Venezia adesso prendersene con le immagini sacre è proprio una cosa vergognosa non è possibile ci sono delle telecamere ci sarà il modo di risalire agli autori di questo gesto secondo lei non posso dire niente perché non so se qui intorno ci sono delle telecamere però ci sarebbe un'indagine ma io penso che dovrebbero essere i genitori sapere dove vanno i loro figli alla notte perché questo è successo di notte non è successo di giorno non so non so voi avete segnalato la cosa alle forze dell'ordine no io no non so se qualche altro l'ha segnalato comunque è pubblico perché la signora l'ha messa su Facebook sul sito di Tezze su Brenta che l'hanno vista in tantissime queste immagini adesso lei provvederà come ha fatto le altre volte a sistemare questo capitello a sostituire l'immagine rovinata se si trova la testa si può anche recuperare la madonnina altrimenti la sostituiamo sperando che non succeda ancora speriamo si bene questo speriamo proprio speriamo che non succeda proprio mai più lasciate stare le madonnine dei capitelli che è una cosa sacra senta ma se si trovasse lei davanti a questi ragazzi è meglio che non lo trovi mai è meglio che non lo trovi perché io andrei in galera senz'altro perché addirittura sì 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 con destro va via con il naso rotto tutta la vita ecco abbiamo sentito fa sorridere questa reazione del signor Cerantola però è anche comprensibile perché non è la prima volta dicevamo che le immagini sacre vengono colpite prese di mira da queste persone si pensa si presume si spera almeno che siano giovani perché se fossero adulti sarebbe ancora peggio no adulti non penso che fanno queste cose almeno che non sia un pazzo non so penso sono ragazzi che quando sono in compagnia in gruppo si sentono spavaldi si fanno delle cose che non vanno bene ma sono ragazzi penso io penso che siano ragazzi mi auguro che siano ragazzi Nicola ecco adesso in attesa che si trovi intanto la testa perché mi diceva il signor Cerantola che l'hanno cercata tutta ieri pomeriggio e anche stamattina e non è stata ritrovata la testina della madonnina se qualcuno la casa se qualcuno magari l'ha presa portata a casa soltanto se la consegna farebbe un favore ecco mandiamo un messaggio diretto anche a chi ha fatto questo che ragazzi lasciate stare scherzate io sono presidente dei Fanti scherzate con me fate quello che volete con me ma lasciate stare i Santi e le madonnine dei Capitelli un messaggio chiaro Nicola che viene mandato proprio qui da Campagnari di Tezze sul Brenta da Francesco Cerantola ci troviamo davanti al Capitello e speriamo insomma che queste cose soprattutto non accadano più Nicola ti ricedo la linea grazie a Vanessa Bazzato e al tuo ospite un altro brevissimo break pubblicitario di nuovo in diretta con Focus Tg parliamo adesso del gravi disagi legati alla chiusura della Val Sugana tanto che giovedì arriveranno in zona il vice ministro alle infrastrutture e il presidente Trentino Fugatti intanto è attiva da ieri l'autocertificazione per transitare lungo la strada chiusa Val Sugana chiusa dopo la frana che è interessato l'SS 47 e la linea ferroviaria lungo la tratta Bassano Trento attiva dalle 7 di venerdì la nuova autocertificazione per permettere ad alcune categorie di transitare in deroga le direttive dell'ordinanza a firma del primo cittadino Luca Ferazzoli che spiega chi e come potrà utilizzarla tenendo conto che le auto solo le auto ribadiamo possono transitare in orario notturno senza autocertificazione non si tratta di un'autocertificazione che consentirà a qualsivoglia lavoratore di transitare lungo la strada ma sono stati individuati sostanzialmente due bacini uno in Veneto e uno in Trentino comprendendo i cittadini che abitano e quindi che lavorano a Bassano su Borgo Bassano e Romano De Zelino e viceversa di quel bacino che lavorano sul Bassanese c'è anche la possibilità di chiedere un'autorizzazione in deroga parliamo di casi straordinari quindi è una diciamo ordinanza che ampia le categorie ammesse restando fermo il fatto che la strada di fatto è chiusa a parte queste situazioni autocertificazione deroga si possono scaricare dal sito del comune il sindaco tiene a fare una precisazione l'appello che faccio è di passare se è proprio necessario perché se si dovesse interrompere questa arteria su questa tratta l'asse Veneto-Trentino sarebbe inesorabilmente chiuso anche perché a oggi il rischio di ulteriori crolli è elevato in tutto questo ricordiamo anche i numerosi appelli fatti alla regione e allo Stato al proposito notizia fresca il vice ministro dell'infrastruttura Edoardo Rixi e il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti saranno in sopralluogo a Valbrenta il prossimo primo febbraio Le pressioni che noi stiamo subendo per aprire perché ovviamente ci sono interessi importanti e che nessuno disconosce dimostrano la strategicità di questo territorio che quindi deve essere finalmente posto all'attenzione della politica nazionale perché i disagi che stanno subendo gli imprenditori le persone e tutto il territorio è veramente gravoso E sentiamolo allora nel dettaglio quali sono questi disagi per le categorie economiche La frana sulla Valciugana non sta creando problemi solo ai residenti e ai pendolari costretti fino a poche ore fa a lunghe deviazioni A partire il dramma della fragilità del territorio sono tante aziende che devono fare i conti con i costi di trasporti almeno raddoppiati in alcuni casi addirittura triplicati Lo segnalano alle associazioni di categoria gli imprenditori artigiani della Pedemontana che fanno pure un esempio Un mezzo in partenza da Marostica e diretto a Trento Nord deve percorrere 100 km in più passando per Verona Ci sono poche alternative per percorrere strade poco adatte ai mezzi pesanti che si traducono in ore perse maggiori costi di personale una riduzione del volume di servizi nell'arco della giornata minor sicurezza e stress per i territori attraversati Lo ribadisce ad esempio con fartigianato imprese Vicenza che parla di costi impossibili da traslare sul cliente con ovvie ripercussioni sui guadagni delle aziende Questo vale ovviamente anche per la direzione opposta con prodotti e materiali in arrivo dal Trentino La soluzione per gli addetti ai lavori è il prolungamento della A31 di cui si parla da decenni ma che finora è sempre rimasto un sogno nel cassetto per il Veneto e quasi un incubo per i dirimpetta ai Trentini ma i dati parlano chiaro l'export manifatturiero dell'ultimo anno verso nord è pari a quasi 4 miliardi di euro pari al 16,7% dell'export totale provinciale e sulla necessità di arrivare a un cambio di rotta si esprime anche confesercenti sicuramente alcuni interventi si dovevano gestire magari qualche anno fa molti anni fa non è stato fatto è stato fatto poco penso che sia il caso mi sembra che c'è stato anche un incontro con i sindici penso che sia il caso di prendere in mano la situazione e quindi creare quelle opportunità per riuscire a superare questo problema ripeto la Val Sugana è un problema che ce lo portiamo dietro da molti anni e sarebbe il caso di risolverlo c'è una vicenda terribile che riguarda una mamma e tante mamme la mamma è di Mogliano l'abbiamo parlato mamma Elena il bimbo di 6 anni suo figlio è affetto dalla distrofia di Duchenne stava attendendo da EMA l'agenzia europea del farmaco che venisse prolungato l'utilizzo di questo farmaco però EMA dice è un farmaco ancora sperimentale però di fatto suo figlio migliora con queste cure ebbene ieri è arrivata come un maccigno la notizia che EMA ha definitivamente detto stop a questo farmaco la reazione di questa mamma e di tante altre mamme siamo scioccati perché appunto già come mamme come genitori come famiglie dobbiamo sopportare tanto dolore nella nostra vita e quindi questa decisione sinceramente dal nostro punto di vista è disumana la notizia temuta è arrivata stamattina ed è come un pugno in faccia per le famiglie dei bambini affetti da distrofia muscolare di Duchenne con una particolare mutazione genetica EMA l'agenzia europea del farmaco ha dato parere negativo e Translarna l'unico medicinale al momento a disposizione per rallentare l'evoluzione della malattia verrà ritirato dal mercato in queste settimane vi abbiamo raccontato la battaglia delle famiglie di questi bimbi tra loro c'è anche Leonardo sei anni di mogliano la mamma Elena semenzato pensa con angoscia alle prospettive che ora si aprono per il futuro di suo figlio la prospettiva che ci avevano dato i medici è che con questo farmaco lui potesse camminare quasi fino alla maggiore età invece adesso se verrà tolto la malattia ricomincerà a gallopare quindi come possiamo sentirci cioè che ci viene tolta l'unica speranza che avevamo la chat delle mamme è piena di messaggi di disperazione e rabbia il farmaco non rappresenta una cura della malattia ma come confermato da molti medici che seguono i bimbi ne rallenta il progredire noi come possiamo accettare una sentenza così in silenzio cioè dobbiamo perlomeno farci sentire come genitori perché siamo veramente ci sentiamo di vivere un inferno siamo disperati i nostri figli già sono messi a dura prova da una malattia grave degenerativa la distrofia più grave esistente quindi non ci sembra umano non ci sembra umano tutto questo dopo questo parere negativo ci sono 67 giorni di tempo prima che il farmaco venga ritirato dal mercato le scorte in Italia sono molto limitate a differenza di altri stati europei che ne sarà di queste medicine si chiedono i genitori al momento non ci sono farmaci alternativi ed il futuro di questi bambini temono mamma e papà sarà peggiore di quello che potrebbe essere se continuassero la cura magari in attesa di risultati della ricerca per curare la distrofia di Duchenne e noi ci aspettiamo purtroppo che nostro figlio smetta di camminare prima e che abbia problemi respiratori prima perché è una malattia che attacca tutti i muscoli compresi quelli respiratori e il muscolo cardiaco quindi il rallentamento è di tutte queste tappe quello che dà Translarna e per noi era importantissimo è importantissimo il rallentamento di queste tappe perché il tempo per noi è estremamente prezioso e lo sono anche le condizioni di vita di questi ragazzi perché dico ok già hanno una vita breve davanti gliela vogliamo far vivere almeno nel migliore dei modi in chiusura non sono ancora arrivati al punto di incontro i trattori nella zona dove si trova Anna Maria Parisi che poi seguirà con i servizi di questa sera ma vi facciamo vedere le immagini ovviamente il problema è anche la nebbia che sta rallentando ovviamente l'arrivo dei trattori vi faccio vedere queste immagini che sono state realizzate durante il percorso dei trattori verso il punto di incontro che è il piazzale di Forte Marghera da qui poi si ritroveranno vedete i cartelli contro la burocrazia d'Europa le tasse e i vigili che stanno ovviamente osservando la situazione e si ritroveranno dopodiché con delle navette andranno verso Venezia dove è prevista una specie di camminata di protesta tra la zona del piazzale Santa Lucia no vediamo ancora la zona di piazzale Santa Lucia dove c'è la stazione verso il ponte di Calatrava chiaramente il passaggio dei trattori ha creato diversi problemi al traffico un traffico che era già abbastanza colpito dalla nebbia questi sono quindi i passaggi dei trattori nella zona poi di Forte Marghera vi racconteremo tutto questa sera è davvero tutto siamo anche un po' in ritardo vi saluto grazie per averci seguito arrivederci